Tutti i soggetti che hanno ricevuto la convocazione per la somministrazione del vaccino AstraZeneca da oggi sono confermati dopo la riabilitazione del farmaco Daema, resa si necessaria per la comparsa di alcuni episodi trombotici e di decessi in diversi paesi. Mentre il motore si prepara a ripartire con l'obiettivo di Regione Lombardia di schiacciare sull'acceleratore per recuperare il tempo perduto, ieri un caso di grave reazione a un altro vaccino anticovid è stato registrato proprio a Cremona. Un paziente è andato in sciocca anafilattico ed è stato trattato con adrenalina. La notizia del Via Libera di Ema non dissipa oggi comunque dubbi e preoccupazioni sui possibili effetti avversi del vaccino di natura tromboembolica. Il mantra è che ogni farmaco porta con sé rischi e che sono maggiori i benefici, ma il comitato scientifico non ha escluso definitivamente il legame tra l'inoculazione del vaccino AstraZeneca e i disturbi della coagulazione registrati, alcuni dei quali molto gravi, che hanno colpito dei pazienti. A rischiare di più sono le persone sotto i 55 anni, ma in particolare i pazienti affetti da tumore del sangue, le donne in terapia estroprogestinica. Diventa un punto da approfondire e chiarire, secondo lo stesso comitato, che chiede che tali possibili rischi siano inclusi nelle informazioni sul prodotto. A mancare la certezza che gli eventi trombotici registrati siano causati dal vaccino, tra cui 18 casi di trombosi venosa cerebrale. Il foglietto illustrativo sarà adeguato per consentire maggiore consapevolezza. Intanto è consigliato il parere medico. Nel caso, dopo la somministrazione, insorgano affanno, dolore al petto, stomaco, gonfiore o freddo un braccio o una gamba, mal di testa grave, visione offuscata, sanguinamento persistente, piccoli lividi multipli, macchie rossastre o violacee, vesciche sotto la pelle. Se la diagnosi confermerà l'evento trombotico in corso, si dovrà ricorrere a terapia anticoagulante. Purtroppo i test rapidi non validano queste trombosi rare e atipiche. In ogni caso, i test di diagnostica sono obbligatori. Prima di cominciare, le persone a rischio trombotico sono decine di migliaia.